Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video della tecnologia di uomo come tutti i giorni alle 6 mi raccomando ripeto sempre alle 6 tutti i giorni non mancherà mai Vorrei fare anche altri video alle 2 non lo so vorrei vorrei ma non c'ho tempo non so che cazzo inventarmi Comunque ero qui in casa mia pieno di redstone non è vero ma ho fatto solo 2 stack non so perchè si è fermato ah si perchè avevo messo a polverizzare l'ossidiana Se ricordate nello scorso video volevo fare altri di questi cosi c'erate presenti questi che si fanno con l'acciaio cazzo ho fatto vabbè questi che si fanno con l'acciaio bla 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 C'è un bug che io volevo farvi vedere che molta gente non conosce che volevo approfittarne dato che ho parlato con l'autore del mod e la sta fixando quindi per ora non c'è Ma conoscete questa mod l'iron backpack no? Molti mod pack tantissimi mod pack attuali la stanno utilizzando e vorrei approfittare di questo momento Prima che la fixi e che la sta per fixare quindi approfittatene e distruggete tutti i server che conoscete che utilizzano l'iron backpack Esiste questo bug molto simpatico Guardate cosa faccio ah metto la steel dust dentro lo sto facendo lo conosco da tanto tempo però lo sto facendo vedere solo ora perchè sta per essere fixato quindi È il momento giusto dicevo metto la steel dust dentro no no scusate no apro metto la steel dust premo uno qui E butto lo zaino voilà prendo lo zaino Eh no ho sbagliato scusate 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 rifaccio fermi fermi sei netto su uno Ok ecco Sono un coglione Ho fatto l'opposto Però Alexander sei un demente Aspetta lo faccio con l'acciaio direttamente Allora Ok oggetto dentro Praticamente ho fatto sparire un oggetto Vedete spari dalla dust Invece di farla sparire devo farla comparire Quindi apro lo zaino Vedo la steel dust all'inventario Premo andando su un altro punto dello zaino Premo il tasto dove sta lo zaino Se lo zaino sta su uno premo uno sulla tastiera E poi lo butto E poi lo raccolgo di nuovo Sì certo come no Eccolo Tadam di nuovo l'acciaio E quindi adesso io lo apro Ci metto l'acciaio dentro Lo metto su uno Lo apro Premo uno da un'altra parte Lo butto E no ho fatto il contrario Ho fatto il contrario di nuovo Vabbè raga Figura di merda L'avete capito il bug No Figuraccio No raga Seriamente però E' fighissima sta cosa Vedete come si dubbliga facilmente Praticamente noi dobbiamo Insegnare allo zaino Che dentro ci sono questi oggetti Una volta che lo zaino ha imparato Che ci sono gli oggetti Possiamo resettarlo E farlo tornare a come era prima Che glielo avessimo imparato Cioè mi spiego Glielo apro Vedi adesso lui sa che ci sta l'acciaio Io lo tolgo E lo butto Buggandolo Lui riaprendosi E' rimasto memorizzato Il fatto che L'acciaio Ma non vi è rimasto Che l'ho tolto Perché l'ho buttato Buggandolo Spostandolo con uno Vedi faccio uno E l'oggetto E adesso lo raccolgo di nuovo Guardate Ci sta di nuovo Capito? Io posso fare così Glielo insegno di nuovo Vedi adesso gli ho insegnato Che c'è quattro acciaio Gli tolgo l'acciaio Che gli ho insegnato Lo sposto Premendo Ah però deve stare su uno Però Eh così come lo sposto Non posso Eh purtroppo ragazzi Deve stare sullo slot uno Perché altrimenti Non potete spostarlo Avete presente che se voi Premete ad esempio 3 Cliccando sull'ossidiana Vedi sto col mouse Sull'ossidiana Premo 3 E me lo mette sullo slot 3 Io utilizzo questo fattore Di spostamento Tramite tasto di tastiera Che non va Quindi io riempio di nuovo L'insegno che c'è l'acciaio Vedete Apro e richiudo Tolgo l'acciaio Premo uno dall'altra parte In modo che lo zaino si sposta Lo butto E lo zaino Gli è rimasto in mente Che c'era l'acciaio Ma dentro non c'è l'acciaio Capito? Quindi adesso ragazzi Andate E distruggete tutto Acciaio infinito Ok E adesso che ho prodotto Questo acciaio cittoso Me lo tengo Perché so figo Ok ragazzi Sono un po' stronzo Lo so L'avrei fatto comunque Però me lo tengo lo stesso Perché Swag Ok ragazzi Ho tantissimo acciaio duplicato Guardate quanto acciaio Madonna quanto è stato Faticoso farmare Tutto questo acciaio È stato terribile E Terrificante Faticosissimo Bene ragazzi Dopo ore e ore di farm Dopo aver fatto tutto questo acciaio Posso finalmente fare Oh mazza quanta stone ho fatto Questa stone ragazzi L'ho fatta Soprattutto per il fatto che Devo continuare un po' Con la project red Che voi avete visto Io ho sospeso Cioè non l'ho più cagata Dopo aver lavorato Quella affare non lì Ma io devo riprenderla Perché devo fare un paio Di cosette importanti Che ho Trascurato Se così vogliamo dire Poi Ho trovato un'altra soluzione Per i sludge boiler Praticamente invece di fare Gli sludge boiler Tutti insieme Che portano nei barrel Vabbè Mi faccio vedere di là Comunque Evitiamo cazzatielle E andiamo a dormire Perché qua non mi pare il caso Dormiamo subito Ok Oh c'è scritto Game mod 1 Cheater No non è vero Non c'è scritto Allè Redstone Grazie Gentilissima Dobbiamo fare altri Cosi di redstone Mi servono dei red Alloi E anche di colori Perché dovremmo fare I cavetti Per la stazione Perché ragazzi Siamo praticamente Alla fase finale Della ferrovia Cioè tutta la struttura Che ho creato Fino adesso È finita Perché io È complicato Da spiegare Insomma Devo fare questi lingotti Qui che si fanno Con questo di redstone Si fa redstone Intorno a ferro Quindi prendo del ferro Lo ricopro di redstone Ne abbiamo fatti I miei besti Bellissimi lingotti Che mettiamo subito a cuoce Ne abbiamo fatti otto Poco Sono otto Ovvero Me ne ricordo Dalla pixel Ma raga Mamma mia Nella pixel Oppure è stata un'agonia Però nella pixel Ma lo farmavo Tutto il giorno Come uno stronzo Qui c'ho l'ex nilo Quindi già Diventa più rilassante La situazione Come va qui La polverizzazione di ossidiana Oh va avanti Bene Mi congratulo Complimentos Ok Mentre qui La produzione di rotaie Prosegue Perché ovviamente ragazzi Ci servivano un casino di rotaie E voi non avete in mente Il progetto mio È tutto in espansione continua Devo fare tante di quelle cose Che non so da dove mettere le mani E devo craftare Tanta di quella roba Che va ancora peggio Le tavolette le sto facendo Sì effettivamente Le stoffo un po' troppe però Che ci faccio tutte le tavolette Comunque Per fare la Fermata in sequenza Non solo ho bisogno Di tanta project red E di tanto acciaio citato Ho bisogno di Tanti di queste Locking track Più il locking track faccio E più posso espandere La stanzione La famosissima stanzione E quindi mi servono tantissime Advanced rail Che ho tipo finito Vero sì Quindi mi servono Advanced rail Che si facevano con oro Redstone E standard rail Cazzo devo farle queste Dove stanno le standard rail Solo sette ne ho Ne devo farne di più Devo fare un bel po' di standard rail E mo mi ci metto a farle ragazzi Mo con molta calma E pazientissima le faccio Mamma mia Questa è una fitta Però produce sto affare Scherzando scherzando Tanto guarda gli stack di rotaie Che escono fuori Pure troppi Oh ferma 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 Passiamo alle altre rotaie Eh così sto messagerando Quindi abbiamo detto Le standard Che si fanno anche Con l'acciaio Se non sbaglio Fammi vedere Voila Mamma mia 16 a craft Mamma mia L'acciaio cittato ragazzi L'acciaio migliore del mondo Ah è vero Che distribuisca affatto Distribuisce automatico Gigi la nuova rail craft raga Mamma mia Che figatosa Allora quindi mi servono Un casino di standard Redstone e oro Oro Redstone però L'ho finita Mi savi Me l'abbia un po' under culo Poi è rimasta poca Mi è rimasta tre redstone Perché io spreco tutto Spreco tutto E poi rimango senza Fammi redstone Stupida dust Oddio raga Nel frattempo Mi sono distratto Stavo guardando Dottor House Non so perché Mi sono presa la pista Guardando Dottor House Lo so Mi sono pallato lì Mette a cuocere l'acciaio Che questo però Non l'ho citato Questo è ottenuto regolarmente Non ho fatto nulla di male Perdono Perdono per i miei peccati Che duplico l'acciaio Ehi ragazzi Stavo lavorando Al cavetti Della project red Vedete ho preso Della lana L'ho presa qui fuori Dalla farm Perché le farm qui fuori Non sono inutili Producono lana infinita Cioè non so se rendo l'idea Infinita lana Ok Le stavo dandogli Un colore Per lo più Mi servirebbe Un colore Per ogni stop Per farlo sembrare ordinato Non è indispensabile Ripeto Per farlo sembrare ordinato Vedete perché Dovrebbe sembrare ordinato Perché la struttura Che devo creare Ha vari Come posso spiegarlo Volevo far vedere Perché spiegarlo Non ha senso Ha varie intersezioni Di cavi Che vanno da una parte E dall'altra In base a Quale cosa si accende Cambia l'accensione Capito Insomma è tutto così E mi porto per adesso Un po' di cavetti normali Mi faccio vedere I cavetti normali E poi Passeremo a quelli colorati Per fare le cose più avanzate E complesse E faremo questa bella stazione Di trenini Quello che mi serve però Sono molti altri di questi Che ne ho solo 4 Potrei utilizzarli Per una sola stazione 4 Una stazione a 2 2 carrelli Anzi 1 2 3 3 carrelli Una stazione a 3 carrelli Bastano 4 di questi Adesso ve la faccio subito vedere Tanto ho solo 2 carrelli Che girano Quindi a stazione a 3 carrelli È più che sufficiente E mi servono Item loader E questi qua E blocchi Per decorare Insomma che ne ho un po' Me lo prendiamo un altro po' E basta Insomma è tutto quanto Dei blocchi Tipo Quali potrei utilizzare Sempre questi qua Fatti così massima Che mi fotti Eccomi qui Dove sta la mia ipotetica Farm di alberi Ragazzi E' tutto fermo Credo perché Sia pieno E Mamma mia E i carrelli Sono fermi Perché probabilmente Si sono schiantati Contro un fantasma Non so che cazzo Di problemi hanno i carrelli Vabbè Si sono fermati senza motivo Questo perché non stanno sempre Oh ecco la lag che parte Sono ripartite le farm E riparte ovviamente la lag Ragazzi Vedete Guardate il sistema che uso adesso Gli sludge boiler Rimetto direttamente Attaccati all'harvester Perché non mi fotte un cazzo Del liquido che va in giro Io voglio oggetti Almeno li porto Quei carrelli Allora La mia stazione Che vado a creare La partiamo La facciamo partire da qui Almeno abbiamo una cosa Ordinata e caruccia Avrà tanti buchi Quindi sarà un po' Brutta da guardare Ma nemmeno Non più di tanto Allora come funziona Dobbiamo mettere in sequenza Le locking track Due Tre Quattro Ogni locking track Dovrà fare il suo lavoro E ci servirà anche quella Poi la prendiamo Non è un problema E ogni due locking track Possiamo mettere un item Loader O un loader E in questo caso Mettiamo i loader E anche advanced Se per questo Mettiamo uno E due Li mettiamo sopra Possiamo metterli dove vogliamo Possiamo anche metterli sotto Ai binari Anzi effettivamente Se li mettiamo sotto Sarebbe anche più bello da guardare Facciamo passare i tubi da sotto No io voglio vedere i tubi che passano Quindi facciamo passare da sopra Non mi fotte un cazzo Va bene Tubi da sopra Quello che invece voglio far passare da sotto Che attualmente non ho Che adesso andremo a craftare È ciò che attiverà tutto il sistema Poi Oltre a questo affare che attiva il sistema Ci servirà del segnale redstone permanente Ascoltate bene Dove Non c'è L'item loader Cioè praticamente sotto l'item loader Che cazzo What's up Sotto l'item loader Metteremo Quindi vedete Qui c'è l'item loader Giusto? Sì Qui l'item loader E qui l'item loader Dove non c'è l'item loader Quindi questi punti qua Vedete sarà tutto alternato Sarà tutto fatto così Metteremo segnale redstone Così Guardate che ho fatto fino adesso Vedete? E non si è acceso Muti Muti Ah No ho sbagliato di un quazzo Sorry Sorry colpa mia Non lo faccio più giuro Praticamente dicevo Andiamo a mettere l'alternato così Ma ecco Fate finta di niente Cancellate quello che ho fatto fino adesso Ecco Uno Due Tre Sì Certo No ho finito il jetpack Uno Tanto torno a casa E due Eh no però Eh dai Mo' ho finito il jetpack Arrivano gli stronzi Sto un po' laghicchiando credo Sì sono le farm di alberi È normale Vedete ragazzi Item loader Spento Acceso Item loader Spento Acceso E poi devo dargli direzione Come ho sempre fatto Gli diamo la direzione Che noi c'è più ci aggrada In questo caso è per di là Quindi facciamo un paio di click Tre quattro Uno due tre quattro Cinque Ah ho sbagliato Uno due tre Dov'è Oh Uno due tre quattro Uno due tre quattro Perfetto Vedete Tutto rivolto a questa direzione Spento acceso Spento acceso Adesso dobbiamo fare un sistema Che vada a invertire lo spento acceso In base ai carrelli Che sono posizionati sui binari Cioè capito Che testa malata e contorta che ho Il motivo per cui Questo carrello è fermo Mi urta assai Vedete Questa cosa non succederà più Perché una volta ci sarà spento acceso Poi vi farò vedere Insomma È tutto È tutto automatico Complessato Dentro a sta testa Che voi non avete idea Tutto un casinato Un bordello E qui ovviamente facciamo il ritorno Come abbiamo Sì certo Il ritorno un po' storto Il ritorno che ho fatto fino adesso E si andrà a riunire Alla ferrovia che abbiamo fatto fino adesso Una stupidaggine Praticamente devo prendere questo loader E spostarlo qui dove c'è il buco Vedete Ho lasciato un vuoto Per mettere quello lì Che sta qui Lo metto qui Ok Adesso ci serve Quell'altro oggetto Che io non ho Che adesso andiamo a craftare Subito a casa Andiamo verso casa Basta che non mi avvelenano Non mi avvelenate Bliserino Ok Comunque veramente raga Quelle cacchio di farm Della Mind Factory Fanno lagga come pochi Masta di FPS Come caro no Arrivate a questo punto Beh effettivamente C'ho tipo 37 pagine Di internet aperte Più video Più roba Insomma Sì effettivamente Potrei chiudere qualcosa Non è una cattiva idea Però dettagli Allora Cosa devo fare adesso Craftare l'oggetto Che si chiama Detector Mi serve anzi no Per precisione Un Advanced Detector Che si fa Col detector Più il potenziamento Advanced Detector No 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 Non è detector È detector Su detector Sì Ah perché c'è altre Detector Spazio Trattina Ecco ora come cazzo Si chiama Detector Advanced Questo ci serve ragazzi Che si fa con Acciaio E pressure plate Più facile di così Sinceramente Non riesco a vederla Nella situazione Allora me ne servono Quindi 8 di pressure Giusto Perfetto Perché con uno stack Di acciaio Ne facciamo esattamente 8 Questa è matematica Ragazzi non si scappa Se non sapete la matematica Cambiate gioco Perché sto gioco Non fa per voi Allora Detector Advanced Ce ne servono 8 Non è vero Ce ne servono Uno per ogni fermata Quindi noi ne abbiamo 3 In quel caso Quindi ce ne servono 3 3 Advanced Più un segnale Redstone E Un'ultima cosettina Importantissima Che si chiama Gate Però ci serve esattamente Il Nord Gate Gate Ci serve No Ecco il qua Ci serve esattamente Il Not Gate Ci serve il Not Gate Però potremmo utilizzare Anche un Nord Non è importante Sia un Nord Che un Not Vanno bene Perché l'importante È invertire Il segnale Redstone Facciamo che Permattivo Andiamo con Nord Andiamo con Nord Lo sappiamo fare Ragazzi Questi li abbiamo Già fatti L'altra volta Project Red Guardiamo i crafting Redstone su una tavolozza E Ale Sto fatto scimità Proprio Prendi questo Metti qua Via Ne facciamo un po' Tipo 15 Perché è un multiplo di 3 E poi facciamo anche quegli altri Che sono quelli fatti a A Catodico Ce l'ho già Facile Facciamo 9 Tanto per Proprio random Sono andando I numeri a casa Tanto non è importante L'importante è farne uno Per ogni stop Come ho fatto con i detector Uno di questi Per ogni detector Perché questo è un invertitore di segnale Adesso vi faccio vedere come si usa Non vi preoccupate Ci penso a tutto io Ecco Questo è già un po' più complesso da fare Dobbiamo fare tipo la scaletta Qui La cosa qui Ecco 6 Basta Ma famone un po' di più Scusa Ce l'ho i materiali 9 Vai tutti 15 Ma che mi fotte Ok Dovrei essere in grado di craftare Ora vediamo un po' Quindi abbiamo deciso per il Nord Sicuri per Nord Non ne sono molto convinto Che possa andare bene Sì perché il Nord Perché se arriva il segnale da lì Gira di là Nord o not A me che mi frega Se prendo il Nord A questo punto faccio il Nord Scusami Che mi cambia Perché tanto il segnale resto Non lo spara sui lati Questi tutti i ragionamenti Che faccio nella mia testa Ragazzi non avete idea Il Nord Perché si spara a destra La soluzione L'ho trovata per terra In Out Perfetto è questo qua Va benissimo questo Perché tanto se io voglio invertire Quando andrei a segnare il resto Ma che cazzo mi fotte E butto così Tanti craft rimangono Con la nostra nuova Super crafting table Del future Mamma mia È più bella crafting table Dell'universos E dobbiamo andare a collegare Il tutto Tutti i not Con i cavetti E con tutto quanto E Voilà Dato che Questa idea Di impianto È un po' complessa Ragazzi Io vi saluto qui Lo so Mi spiace salutarvi Ma Stiamo Durando troppo Facciamo che faccio Un altro video domani Come al solito E farò questo lavoretto Finirò di applicare Questi Ecco Appunto Finirò di applicare Queste cose Sul La farm Di alberi Adesso facciamo questa sezione A tre di Di carrelli Poi la moltiplicheremo A quattro A cinque A sei Come cazzo ci pare Però intanto la facciamo Così non abbiamo più problemi Non vi avvicinate Zombie del cazzo Ok Vi faccio vedere al volo Non posso Perché ci vuole un botto Ragazzi Ciao a tutti E al prossimo video Non perdetelo